Musica Musica Ad appoggiare i punti del 29-23. Tre e quattro nella sua partita, immediatamente Vesce. Senti vantaggi, quindi attuazione molto molto dedicata per Vesce. A 100 secondi a termine del terzo periodo di gioco prova a rispondere Marco Cerotto. Con il quintetto teoricamente di riserva, stanno giocando abbastanza meglio che con i titoli. Alla stiamo. Il lanza è molto come inizia la Nek. Si ha entrato in la giocatura precedente per Ennis. E la prima, beh, guardate, e guardate, è lo che ti dico di Gelinek. Le evitano un'esplosione. Non è stato 2 di 5, non si ha sumato ancora. 22. E questi saranno 2 punti per Rui e Absu. E 0 a lo suyo. A lo suyo. Si, si. A metter. Rui e Absu motiva. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, 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 si. Si, si. Si, si. Si. Si, si. Si, si. Si. è Raffaele, che ha salito per avvisare. Ahi sta il paquetti, legare e tirare. Grazie a tutti. Grazie a tutti.